Le statistiche INAIL relativamente agli anni che vanno dal 2001 al 2010 mostrano un calo degli infortuni mortali sul lavoro. Nel ramo agricoltura si è passato da 159 morti nel 2001 ai 115 del 2010 per una diminuzione complessiva del 27,7%. Nel ramo servizi si è passati da 622 morti nel 2001 ai 425 del 2010 per una diminuzione complessiva del 31,7%. Nel ramo industria, infine, si è passati da 765 morti nel 2001 ai 440 del 2010 per una diminuzione complessiva del 42,5%.